E' il professore Franco Dritta? E' chi parla? E' il dottor Nicolai? E' lei come sul Franco Dritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigadero. E' bene? Ha capito? Sì. Adempiamo le ultime volontà del Presidente comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldomoro. Mi sento? No, se vuoi ripetere. Non posso ripetere. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldomoro in via Caetani. Via Caetani. Lì c'è un Renault 4, rossa. I primi numeri di targa sono N5. Dovevo telefonare? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso? Non può? Non è per forza. Sì, sì, no.